Vive di espedienti, senza lavoro da me, su una vita difficile, c'è la disperazione dietro il gesto dell'uomo di 51 anni che ieri si è presentato armato di taglierino in questo ufficio postale di via Roma a Porto Empedocle con tutte le intenzioni di compiere una rapina, un assalto confinale da libro cuore, il disoccupato e lacrime, i pensionati a fare la colletta. L'uomo infatti è conosciuto nella cittadina e non ha fatto paura alle persone che in quel momento si trovavano all'interno dell'ufficio, è stato calmato, poi vista la situazione di disagio economico i presenti si sono messi le mani in tasca riuscendo a raccogliere un centinaio di euro, commossi dalla storia che ha raccontato anche gli agenti, disperato perché senza lavoro da molto tempo, una situazione che tanti in paese conoscono. Si diletta cantando, facendo divertire un pochino la gente, lo chiamiamo Renato Zero dei poveri, in quanto vivendo in una condizione socio-economica disastrosa e al di là di tutto vive in condizioni proprio misere. Il ragazzo è a posto, lavorava a scarregare la farina e purtroppo dice che l'hanno licenziato, dicono, voce del paese. Non è da ora, ma da tanto tempo che non è disperato. L'arma dell'esperazione purtroppo è brutta, le cose sono molto brutte. Tenuto conto che non aveva usato violenza né minacciato il cassiere e i clienti, i poliziotti lo hanno portato in commissariato dove non è stato arrestato ma solo denunciato per violenza privata.